Ciao ragazzi bentornati qui sul mio canale, bentornati con i pronostici di Champions League con l'episodio numero 3 signori, mi raccomando ragazzi per ne tutto like, iscrizione, campanello condividete questo video con tutti i vostri amici che state sempre aggiornati sul mio canale per non perderti alcun contenuto più pubblico, seguitemi su Instagram su Twitter, nuovo social che ho, seguitemi anche sul primo canale YouTube per John Gamer Gaming, sul secondo questo, che in realtà non è il primo quello gaming ma vabbè, questo John Gamer e il canale secondario è parallelo a questo di calcio John Gamer Extra e basta, ok ho detto tutto e signori, pronostici di Champions League vi faccio vedere i punti della scorsa giornata e andremo a fare quelli nuovi i punti che ho fatto nella scorsa giornata sono stati 45 meglio rispetto alla scorsa giornata però posso fare di più allora Sporti Lisbon e Tottenham è finita 2-0 per lo Sporti abbiamo pronosticato 0-2 per il Tottenham Pils e Nilton, cioè Inter, abbiamo pronosticato 1-2 per l'Inter è finita 0-2, non ci sono andato vicino Marci a 1, Francoforte 1 è finita 0-1 per il Francoforte Bayern Moga, Barcellona è finita 2-0 per il Bayern è finita e io ho pronosticato 2-3 per il Barcellona Leverkusen Atletico, non mi becco i punti è finita 2-0 per il Bayern Leverkusen Porto, Club Rugge, ha finito 4-0 per il Club Rugge Liverpool Ajax, ce ne sono andato molti vicino per carri risultati esatti avevo detto 2-0 Liverpool, è finito l'1 poi Shakhtar, Celtic avevo detto 2-1 per lo Shakhtar invece è finita 1-1 Milan, Dinamo Zagabria, ho pronosticato un 2-1 per il Milan ha finito 3-1 mi becco 8 punti qui perché ho giocato il potenziamento per 2 Maccabi Haifa, Paris Saint Germain è finita 1-3 e ho pronosticato 0-3 Juventus Benfica non ho pronosticato meglio dimenticare Sevilla, Copenhagen ho pronosticato 1-0 per il Sevilla è finita 0-0 Manchester City Dortmund ha pronosticato 3-1 per il City è finita 2-1 mi becco 4 punti Real Lips ha pronosticato 2-0 per il Reale è finita 2-0 4 punti e qui mi becco 8 punti allora io in pochi avrebbero detto che Chelsea Salzburg sarebbe finita 1-1 però io sto andato a fare una cosa coraggiosa e l'ho azzeccata me la sentivo me la sentivo e infatti ho preso 8 punti è finita 1-1 e qui mi becco 4 punti Rangers Napoli finita 0-3 per il Napoli 1-3 potevo beccarne anche 60 però in alcuni ci sono andato molto vicini ma purtroppo il destino è stata la mia parte detto questo giornata numero 3 Marsiglia e Sport e Lisbona allora Sport e Lisbona vengono a due ottime partite però io credo che sia giunta l'ora della Sport e Lisbona di pareggiare no? dico 1-1 tra Marsiglia e Sport e Lisbona Bayern in breve in breve ok Francoforte Tottenham il Tottenham viene da una sconfitta pesante con lo Sport ma io credo che comunque il Tottenham farà molto bene cioè posso fare un buon girone in Champions League quindi pronostico 2-1 per il Tottenham Inter Barcellona sono indeciso tra due risultati diversi tra loro allora sono indeciso se mettere 1-1 o 2-1 per il Barcellona no dico 2-1 Barcellona ok 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 2-1 per il Barça perché Lautara è rotto Lukaku è rotto Brozovic è rotto 2-1 Barça Club Rug Atletico Madrid dico Club Rug Atletico 1-2 per l'Atletico Madrid squadra molto molto forte Porto Leverkusen bella questa Leverkusen viene da una vittoria 2-0 con l'Atletico il Porto viene da una sconfitta e perderà secondo me anche adesso no dai perderà no vi dico 0-0 poi Ajax Napoli bella partita per me Napoli non vince però non vince finisce 1-1 no non vince quando finisce 1-1 o 2-2 finisce 1-1 secondo me ok Liverpool Rangers dico 2-0 per il Liverpool nonostante il brutto momento Lipsia Celtic allora il Celtic viene da un pareggio e una sconfitta e lipsia viene da una sconfitta e una vittoria dico che però secondo me Lipsia vince vince 2-1 contro il Celtic Salzburgo Dinamo Zacapria dico bella partita non è facile perché sono due scuole forti io dico che Salzburgo vince secondo me vince oh oddio ok 2-1 Benfica Paris io spero con tutto il cuore che vinca Paris e dico 2-1 sperando che questo risultato accada allora faccio una prima precisazione allora io essendo molto scaramantico non volevo mettere il risultato però comunque visto che sono visto che i prosti ce li ho fatti voi siete magari curiosi di sapere cosa ho detto che risultato devo mettere tra Juventus e Maccabi Haifa non lo metterò per le altre tre partite forse alla prossima con il Maccabi lo metterò ma lo metterò ma col Paris Saint Germain e il Benfica mai ce ne sono 30 mettendo prima mettiamo le altre si guida Dortmund io credo 1-3 per il Dortmund visto il brutto momento Manchester City Copenaghen dico 3-0 del City ci sta Real Shakhtar dico il Real ha sempre difficoltà nei gironi però dico 2-0 per il Real Chelsea Mina bellissimo è l'ultima purtroppo c'è quando c'è la Juve è peccato perché avrei preferito fare il post partita di quella partita visto che comunque si c'è Inter Barcellona ma preferivo fare Chelsea Milan se devo essere sincero sapete che non lo so sono indeciso però secondo me il Milan vi dico che almeno un punto lo porterà a casa secondo me oddio perché non va si è buggato 1-1 secondo me finisce e allora Juventus ma capì allora scusate tutte ste ripetizioni ma è stanchezza visto che ho dormito pochissimo detto ciò Juventus che viene 3-0 ma capì che comunque ha perso con Paris ha perso con Benfica guardate mi dicevo che la Juve è una squadra sempre imprevedibile però spero che almeno almeno 2-1 si riesca a vincere almeno 2-1 non mi interessa se vinciamo 2-1 possiamo vincere anche 1-0 non me ne frega niente l'importante è che vinciamo il Jolly sapete che me lo gioco su è difficile perché tutti sono partiti molto difficili sul Bayern però sul Bayern me lo gioco sul Bayern vediamo un po' la squadra per il fantasy football invece vediamo un po' dai su vai 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 non so perché non va però vabbè ci vediamo dopo ok vorrebbe andare ora mi auguro ok allora tu sei la sua squadra allora nella giornata 2 ho fatto 34 punti evidentemente di buono c'è stato solo Salah nella giornata 1 40 punti ecco allora fai i trasferimenti la posso fare fai i trasferimenti cosa si intende no vabbè non facciamo cavolate no diciamo così dico allora ma si può cambiare modulo tipo non mi scuola guardiamo come fare i punti regolamento ma dai ma io non capisco come si cambi i moduli ragazzi fatemelo sapere allora si è la squadra ecco ecco tre difensori due centrocampistone attaccante eh ho capito ma eh ho capito che posso farlo ma partite eh no non mi frega niente la scadenza dei trasferimenti tre difensori quanto era scusate quanto era non mi ricordo già più eh aspettate perché ci siano un portiere tre difensori due centrocampistone un attaccante no due attaccante è un attaccante no tre no mi sono già dimenticato cavolo allora proviamo a togliere ehm un attaccante rimuovi no 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 non facciamo ok non facciamo un cavolato allora no 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 intanto qua ah ma perché mi è restato un soldo boh ragazzi non ci ho capito boh ragazzi sto facendo un po' di così allora no a cerca giocatori una volta stagione ha effettuato tutte ah c'è una nuova funzione sì che io lo sapevo che è attiva ok lo ho tutti scuola eh ma ah devo toglierne uno ah eh tolgo chi tolgo tolgo faccio una pazzia tolgo teo e vi spiego anche il perché e ci metto una che ha più senso eh però non c'è senso eh ok perché l'ho fatto allora perché teo è infortunato e non si sa quando rientra e perché davis mi garantisce più bonus va bene conferiamo i trasferimenti va bene no basta non voglio più ma adesso ma dio mio aspetta andiamo qui madonna no qui scusate questo cringe ma non è che devo fare altri trasferimenti spero di no no sommario ah con l'users che è infortunato allora ci devo mettere tipo un uniez ah ok così si cambia modulo ah confermo sostituzioni ok ah ok vabbè dai va bene così va bene ah no però no no non va bene così allora eh chi mette come va a capitare devo capire sta roba è il trasferimento ecco boh ragazzi non sto capendo un cavolo vabbè questo mi venisce questo è tutto qui è tutto il trasferimento Grazie a tutti